oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino benvenuti appassionati spettatori della radio teatro otto sono io davide ponza direttamente da osta oggi ho deciso di presentarvi il mio secondo libro in seguito della saga the star of destiny ovvero the star of destiny 2 per chi non lo sapesse the star of destiny è una storia di fantascienza e avventura che ha come protagonista un ragazzo capace di usare tutti i poteri elementari che possono salvare il mondo il ragazzo però ha anche un piccolissimo difetto ha perso tutta la sua memoria del passato il suo compito ora è quello di recuperare le sue memorie andando ad esplorare mille mondi diversi insieme i suoi amici inclusa patrizia nel seguito del primo libro testato destiny 2 a space as venture il ragazzo e i suoi amici esplorano lo spazio in cerca di un super cattivo che sta lanciando una minaccia davvero terribile una minaccia spaziale riusciranno a salvare il mondo boh per sapere dovete leggere il mio libro che piccolissimo spoiler uscirà prima di natale preordinate il mio secondo libro mi scongiuro vi sopplico vi pago vi dono 20 euro vi do anche una una patrizia interna ma per favore con preordinate il mio libro che è molto più 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 che un libro è anche un documentario in realtà scherzavo leggete il mio libro perché rimanete davvero sorpresi e soddisfatti questo è tutto buonanotte a tutti salve a tutti io sono simone armiento e oggi ho intenzione di raccontarvi di uno dei movimenti dell'ottocento più importanti ovvero il futurismo i futuristi il futurismo è il primo movimento culturale di avanguardia italiana si affermano come nel febbraio del 1909 però per di filippo tommaso marinetti nel 1876 e 1944 scrittore e poeta di formazione simbolista che ne traccia i fondamenti lineamenti in campo poetico del testo manifesto del futurismo questo esordio movimento di marinetti come futurista fa capire come il movimento da lui capeggiato si basi sulla volontà di provocare per suscitare una reazione i futuristi contavano cantavano la violenza mitizzando il futuro e desigrando il passato sono contro i musei le accademie le scuole e avversano ciò che sa di stantio di stabilità e di polveroso amano la velocità che celebrano esaltando celebrano esaltando l'automobile in corsa e credono nella guerra come sola igiene nel mondo per permettere di fare piazza pulita del passato il movimento futurista rifiuta l'immobilismo delle forme artistiche tradizionali e divulga una nuova estetica legata alla modernità e alla velocità i futuristi credono nella completa adesione dell'arte alla vita reale realizzabile solo attraverso una violenta sovvenzione culturale e sociale uno dei grandi meriti del futurismo è dunque quello di superare la separazione netta tra arte e vita reale un artista è un artista sempre in qualsiasi momento della sua vita sia quando realizza un'opera sia quando vive un momento quotidiano marinetti stimola le aperture del futurismo ai vari campi di espressione dal teatro alla topotipografia con le parole in libertà che sovvertono la consueta disposizione del testo sulla pagina alla musica al cinema e alla fotografia e gli artisti delle altre discipline aderiscono entusiasti contribuendo a conferire al futurismo una più concreta e forte identità tra questi futuristi ci sono anche artisti che per me sono stati gli artisti più importanti di tutto l'ottocento come lo erano stati carlo carrà umberto buccioni e giacomo palla la grazie per avermi ascoltato buongiorno a tutti io sono dario francesco e luca e per l'avventura di ospitab oggi vi portiamo cars scena 3 ah caspita dove sono dove sono buon di me l'ha addormentato mi chiedevo quando è che ti sarete svegliato prendi quello che vuoi però non farmi del male una grascia perché una grascia addosso che ci faccio qui per favore sei buffo eh sei simpatico sei mi chiamo carlo attrezzi carlo attrezzi si carlo attrezzi ma per gli amici sono cricchetto tu ti chiami tu tu non sai il mio nome no no non so il tuo nome sei il famoso johnny spider cosa senti io ho bisogno di arrivare in california il più presto possibile dove mi trovo dove ti trovi fischia sei reddito spins la più bella cittadina della contetta del carburator ah magnifico davvero magnifico se questo si sembra magnifico quando vedi il resto schiatti sai mi piacerebbe tanto vedere il resto quindi se uno apri il cancello mi togli questa ganascia noi due ci facciamo un giretto e vediamo quello che si fa qui intorno bello bambino andiamo ah ah e credici in mezzo attrezzo cricchetto che cosa ti avevo detto di non fare con l'accusato parlare con lui bene basta chiacchiere e trascina questo delinquente virata della strada dal giudice andiamo al torchio ti rimorchio torchio rimorchio ho fatto la rima ai buongiorno a tutti sono alberto caniglia e oggi vi leggerò il testo del film intitolato kung fu panda 3 mi dispiace ugui ah oh la smettete di fare così il tuo primo giorno di insegnamento umiliante l'ho saputo chi ve l'ha detto è stata tigre l'ho saputo da scimmia gru mantide tuo padre la signora ciao degli articoli da regalo quelle ocche che ti hanno appena superato e me l'ha detto tigre vi ha anche detto che non vi ha anche detto che non succederà mai più perché ho chiuso con l'esercizio con l'essere umiliato tutti e due non so come mai avete pensato che potessi insegnare oh sapevo che non potevi cosa voi avete voluto farmi fallire perché se fai solo quello che sai fare non sarai mai più di quello che sei ora io non voglio essere di più a me piace chi sono ora tu non sai nemmeno chi sei che vuol certo che lo so io sono il guerriero dragone e questo esattamente cosa significa guerriero dragone significa ecco ecco solo andare in giro picchiare calciare difendere la valle e il resto picchiare calciare pensi che sia questo che il grande maestro ugui abbia visto per te una profezia di 500 anni avveratasi perché tu passassi le giornate a dare calci nelle chiappe e correndo in giro a dare il 5 ai coniglietti sì no ugui ha visto della grandezza in tempo contro ogni mio buon parere più di quanta tu ne veda in te stesso buongiorno a tutti sono stefano oggi vi parlerò di giuseppe verdi giuseppe verdi è nato a roncole di bussetto in provincia di piacenza il 10 ottobre 1813 già a partire dall'età di quattro anni ricevette lezioni private di latino e italiano dal maestro e organista del paese l'escezionale talento compositivo di verdi fu indubbiamente coltivato e accresciuto dallo studio ma fu anche sostenuto dal padre che intuiva le ottime prospettive del figlio verdi divenne organista a pagamento all'età di soli otto anni un personaggio assolutamente centrale nella vita di giuseppe verdi fu antonio barezzi un negoziante amante della musica e direttore della locale società filarmonica convinto che la fiducia del giovane fosse ben riposta divenne su mecenate e protettore aiutandolo a proseguire gli studi intuì l'incredibile talento del ragazzo e lo presentò a ferdinando pro versi direttore della scuola di musica della collegiata di san bartolomeo apostolo a busseto che gli diede lezioni gratuitamente alla fine del 1829 verdi completò i suoi studi con provasi il quale dichiarò che non aveva più nulla da insegnargli verdi si trasferì presso la casa di barezzi dove impartiva lezioni di canto e di pianoforte alla figlia di barezzi margherita che poi in seguito sposerà verdi desiderava studiare a milano che offrima molte più opportunità e risorse rispetto alla piccola busseto nel 1892 barezzi è pro versi proposero al 18 anni verdi l'entrare grazie ad una borsa di studio al conservatorio di milano antonio barezzi si fece garante per le spese verdi scrisse moltissime opere le più famose sono il nabucco il rigoletto il trovatore la traviata e la ida con la sua gloriosa marcia trionfale due curiosità la prima rappresentazione della ida avvenne al cairo il 24 dicembre 1871 in occasione dell'inaugurazione del canale di suez la scritta via verdi che comparve sui muri di milano e venezia durante il risorgimento aveva un doppio significato da un lato ineggiava il famoso compositore dall'altro via verdi poteva essere letto come una sigla che stava significare viva vittorio emanuele reddit tadia e quindi acquistare un preciso significato politico anti austriaco giuseppe verdi morì a milano il 27 gennaio 1901 grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata